Pai off di Light Village, come puoi vedere, what do you see? Cioè che cosa vede? E lei cosa vede oggi in Light Village? Ma vede un'ottima struttura, uno splendido showroom dove dimostrare la potenzialità del made in Italy nell'illuminazione a LED e nell'impiantistica evoluta per cui un eccellente esempio di come mettere in mostra nel migliore dei modi questo tipo di soluzioni. Qualcosa che l'ha colpita particolarmente all'interno di Light Village? Io sono stato affascinato dal contenitore nel suo complesso, per cui non ho avuto possibilità di approfondire i vari spazi. Mi sono piaciuti molto anche le parti del piano superiore dove si vedono proprio anche le lampade e le soluzioni di dispositivi, quelle le ho potuto più apprezzare da cliente finale, non tanto da addetto ai lavori, per cui questo l'ho apprezzato molto anche.